3. Oggi partiamo un attimino prima che poi dobbiamo fare cose, ci sono conferenze, partiamo un attimino prima. Ciao! Eeeh! Che schifo! E' schifo! E' schifo! E' quindi niente, siamo partiti un attimino prima però con il motivo lì. Sì, finiamo un attimo prima per lasciare spazio alla conferenza. Pensavo che iniziassimo un attimo prima per finire un attimo dopo, perché... Perché sei stupido, Corvo? Mi dispiace tanto. Sì, sì, sì. Allora, dove eravamo arrivonti? Eh, però io mi volevo mangiare qualcosa di dolce. Cosa mi consigliate tra un cornetto algida, un... Un... come quello alla fragola, come si chiama? Il gelato alla fragola. Il gelato alla fragola? E il ghiacciolo. Ah, perché mi unisco, quello che suona dentro. Allora, intanto io ringrazio. Io sono dentro. Una slittra, palgares. Ippalifo, per due mesi. Moio 92, Timbaldus, Jumanku, Bollazza, Ilmir, Isostep, 93 per 7 mesi. Mi è piaciuta la pausa aria. Grazie mille. Grazie mille a tutti. Esatto. Mi è piaciuta la pausa respirazione. Il baffo è diventato per un attimo. E poi ha cercato di vendere un po' di roba. Esatto. Aspetta, a me non ho riavviato. Datemi un secondo. Dai. Ma è che in realtà non dovrebbe essere il po' di roba. Ma hai riavviato come ho dovuto fare? Hai ragione pure tu. Perfetto. Mi cazzo è la cosa. Ma no, è vero. Mi cazzo è la cosa. Mi cazzo è la cosa. Mi cazzo è la cosa. Io non ci sono oggi, hai spirito, ma tu non ci sei mai. Buuuu. Buia. 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 Sex. Sex. No. Sex. Vabbè aspetta a uccidermi. No no. Aspetta a vent'anni. Sta downloadando per finta però aspetta che cancello è... Cancello. Ma. T'ho preso. Scusa. E' a 20esima volta la scarica. Che succede? Guarda te. Devi già rompere le palle. Sperito per caso. Fammi capire. Poi diceva a me. Poi diceva a me questo deficiente bastardo. Ma come provare i tuoi? Cani Musa. Eccolo lì. Ah e ti ha risposto hai sentito? Bravissimo cazzo. Ma quindi io domani come faccio con SummerSlam? Mi devo chiudere la testa in una brocca di vetro? Porca troia no è la fine. O lo guardi stanno spero. Fermati notte. Alle 5. E il mio amico speciale io tolmi. Mi sono guardato gli highlight di NXT TakeOver. Ok. Extreme TakeOver. T'entrando però. NXT TakeOver. E' finito di guardare gli highlight. E' son dentro già. Ah pro Facebook la prima cosa mi è comparse era uno spoiler di NXT TakeOver. Porca troia. Io vi ho visto chi ha vinto per l'ora. A me non sta downloadando però. Ha già fatto cancel e rifatto. Ma non fare cancel che fa casino. Ma perché è criminalo? Oh Esprit ti tiro un pugno nella faccia adesso. Ma no che non sei male. Ti taglio le gambe. Esprit veramente. Con della carta. Allora va te lo sai che fare cancel fa casino. Non è vero lo risolve. Lo risolve. E' quello che devi fare. Cosa dice questo qui? Ma è vero. Spoto sempre se... Ma che dici? Che dici? Che dici? Che dici? Che dici? Che dici questo? Comunque. Fior di fragola. Magno. Cioè. Cornetto agida. Oppure. Fiesta. Fiesta al babaloo. Sette mesi. Che lo distrago ragazzi. I mondiali di Pokemon c'erano questa sera. Dove dire sono stati in Italia per una settimana. Ah perché vivi a Monaco. Ah vedi? E' bello. Domani torno al lavoro e in università. Bello se ti piace il tedesco. Monaco. Dipende quale Monaco intenda. Monaco di Baviera o Monaco o Monaco? Eh. Monaco. Ma Mona sarei tu. Scusa. Dipende quale Monaco intenda. Ok sono riuscito a penetrare all'interno. Potete ammattarvi. Dai viettalo. Fai il tiro all'anatra. Ma dove eri prima? Chi è? Chi è? Boh vedete voi. Privati. Stavo dicendo private. Stavo leggendo invece. Sinista. 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 Eh ma è troppo. Vai. Bravissimo. Nooo. Riprendi la palombella dovevi fare. E' stato un tiro. Lancia il giavellotto un po' scavato. Ah. Ha vinto bravo. Non me l'aspettavo. All'azione avrebbe fatto ridere un sacco. Ah vabbè. Prega per me. Beh. Il mondo. Che bello che mi ricorda sempre il nostro giovane Giacomo mai negri. La prima volta. Ammonato di Baviera. Quindi in Germania. Beve la birra. In Germania si beve la birra. Sì. Ma vedi? E i Wuster. Ma allora però. Bevono i Wuster in Germania. Sì li sciolgono. Fanno questo liquido con i Wuster. Fa un po' schifo. Vero bravissimi. Ah è buono. Bello fresco con il ghiaccio. E' uno spettacolo. Due, quattro, sei. Siamo in otto? Oggi ci sono. No. Non ricordo. No, no, no. No, no, no. Volevi. Era un simpatico scherzone. Un simpatico scherzone. Un simpatico. Ah non si muove questo niente. Niente. Suonano. Suonano al piano. Suonano al piano ma anche forte. Sono una persona presente in questo luogo. Di oscurità. Tirò il piazzetto. Allora abbiamo già chiamato i traditori. Sì sono. Tu, uno è Marco. Uno è Marco. Ah l'ho vista. E l'altro è Roti. Aggiornati. Mi è successo qualcosa. È morta gente. Aspetta faccio un'infesta. Sì sono morto io. Ah. Di sonno? Però non ti hanno identificato. Perché stai parlato? Perché sei stupido. Domani voglio in me. Il bicchiere. Whistar contro un di whistar e patate con pezzate di whistar. Ah bene bene. Facciamo gli spaghetti con i pezzettini di hot dog. Come gli piace la scelta. Gli spaghetti. Marco. Ho fatto la ricetta sul mio canale. Andatelo a vedere. Caribe. Ma si spamma questo. Sento ma ci sono. Eh la la. È morto Caribe. Corvo è morto eh. Ma che va ora. Corvo è morto. Mi sa che Corvo è morto eh. Ah esposo. Voi due siete troppo zitti. Voi siete traditore. E niente mi dice che esposoci quattro. Cazzo. Ma in una se ero con te non ho sentito nessuna esplosione. Allora io ho incrociato gli azzarei notti e sono stati zittissimi entrambi. Ma stavo parlando fino adesso con te. Eh però quando mi hai incontrato sembrava volessi spararmi. Dai marchi lì con me. Ovvio che vuole sfuggire. Andiamo a farci un giro. Perché mi scatta così sto gioco di merda. Eh lo svito. Ma dai che mando. Mi scatta non so perché mi fa di crisi incredibile. Scusa scusa. Non so perché ogni volta che cambio gioco FPS non mi trovo mai con la distanza mia tra... Comunque se è subbato... Comunque se è subbato... Niko Psyco. Niko Psyco. Niko Psyco. Niko Psyco. Grazie mille. Leggiamo la questione. Guarda il controllo è quello d'olio. Aspetta che sto seguendo il traditore sicuramente. E non dirò chi è. Non te lo dico. Perché sono io. Non sta seguendo me. È vero eri tu. Sei un mago sei. Sei un maga. Ragazzi metterete la live di venerdì notte su YouTube. No perché c'è la musica. Cremuse è zitto eh. Cremuse è zitto. Guarda che... Cremuse sta tramando. Sono fatto malissimo. Sì. C'è uno che si cura? E sono io. Madonna. Qua si sento. Si tira giù dalle balconate. Prima ho perso 15 cadendo di lì eh. E si sta curando con il mattacchione. Appena ha detto. Si è buttato lì sotto l'ho visto io. Ma io non l'ho capito. Che coglione. Ho sentito fare le delle pompe. Quello là in fondo. Ehi ehi. Stai morendo Roti. Però esplica però. Karim c'era meglio di buttarlo sotto il piano forte. Sei vivo Karim? Mi sa di no. E niente. E allora hai gatto a Karim. Che hai ucciso? No allora hai gatto. Perché? Perché tu no? Perché eri l'unico. Perché io stavo sparando a Doroti. Se guardi l'ultima di sono. E' sbagliato. E' maestro Karim. E' l'unico. E' l'unico che non c'è con noi. Se non vuoi due chi era? E' gatto. Ma non ci sono io. Ma cosa dici? Non c'ero? E' morto col Mac. E che c'hai not. Va bene. Guarda Roti con cos'è morto. Col Mac. Oh wow. L'ho ucciso io. No l'ho ucciso io. Ma Roti l'ho ucciso io col Mac. Controlla. No l'ho ucciso col Mac. Ma chi l'ho ucciso? E beh. Mi ha ucciso chi stia fregato. Vediamo. Beh. Mi è piaciuto questo ragionamento molto ponderato di Esprit. Ah i due che vanno a me è che sono gatto di notte. Quindi uno dei due. E' cazzo. Io ci mando la Deagle. E' usciretevi tra di voi. Vedete voi. Eh se lo vedo gli spavano. Guarda Marco come cazzo lo sai. Hai seduto? Va che bello. E' me mi ha sistemato. Sto perdendo pacchetti. Perché stai seduto? Guarda tu hai coglidoio. Gatto. Dimmi. Esprit sei morto. E' un cretino. E' un cretino. E' un cretino ma gli spavano. Non l'avrei mai sospettato io dopo questa qua. Dopo il dimmi ti eri completamente scagionato. Sopriamo a me. Io ho pensato che boi è sweet. Semplicemente non ha più voglia di palla. Che palla. Adesso ti ammazzi. Eh fatti. Torno. Torno. Veloce. 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 Ah. Meno male. Oddio mio. Wonder Luke. Wonder Luke. Grazie mille. You're my Wonder Luke. Vinda. Vinda. E' un po' di messo vappo dalla camera. E' un po' di messo. E' un po' di messo. Ha avuto sangue in giro. Poi Mark. Sei voluto. KT. Manca poco per un cipone. Sì. Undici mesi. Mi cito qua. Ahà. E domani si va in posta a prendere una maglietta. Vede. In posta. Che sfiga. Zip. Zip che trovo. Perché zip. E vincete con gli uomini. Esatto. Allora vedi. Non era una roba mia. Ho rotto la sedia. Ehi. No. Karim ancora. Karim. Marco. Karim muda. No. Lo sparare. Lo sparare. È in alto. È in alto. Karim. Eri bull in fondo. In alto. Fai in alto. Tedan. Tedan. Era Oroti questo fischio. Fischio di cosa. Sì. La prossima si può fare il dettivo. Aspetta Oroti. Mettiti li doveri. Ti è entrato. Ti è entrato. Mettiti li doveri. Ti fidi di me? Ok, fermo il mobile Mamma mia, Roti, girati Ho fatto una porta nel muro No, no, sì, no Ero rinforzato Ehi, ma pensavo che era un cecchino Ma che paura Ma hai sentito dei colpi di pompa Mentre tu facevi il cretino con Roti Merda Carim, giustiamo a Blackjack Dai, 21, vivi o muori E lui la madonna In teoria sì, cioè Ho preso una smoke Allora, vediamo un po' come funziona La gente che si cura Io Mi hai ballato il culo Marco, ti sei cagato, lo volevi uccidere Ma eri tu, Carim No, io pensavo fosse un altro Non avevo visto che ne ho tetti Beh, ma non è possibile Ehi, once again Corvo, cos'è successo? Eh, mortogliezza d'esploso Io ho perso tutta la vita C'ho venticino Secondo me, Corvo A me ha fatto più rettare Dai, c85, 11 mesi, grazie mille Grazie mille Grazie mille, la compagnia che mi hai fatto ogni sera Non devo superare questa linea Ando a far canestra Corvo, perché ti stavi curando? Dai Corvo Bravissimo Che sfiga, che sfiga Che bella idea Che è, non l'avevo visto Che è successo? Prendo anche il silenziato Non posso Che? Ma non è possibile Non è possibile Non è possibile Mi è passato attraverso Che sfiga Mi è arrivato in schiena Sono il detective Ah, devo abbassare Eh, spesso di insettare Dammi la dita Che prima ero cazzo Ma infatti ho sentito Ma una foto a non morire, scusa Eh, perché ero troppo vicino No, si sa Ma quello si sapeva da secoli Eh, sì Mi è passato attraverso Ah, perché Esprit era troppo vicino Era troppo vicino Era così vicino Dai, cavolo Eh, no, dipende Dipende dalla lunghezza del Non ho sempre fatto così dal pione È sempre sottata A me non si sembrava così vicino Ma infatti Eh, no, perché ho un po' di girassica Di nuovo sottata No, ragazzi Fantastico Doppia linguetta per aprire la fiesta Wow Wow E per imbecille Puoi fare Eh, no, è un bug Non la mangio da un sacco la fiesta io Mh, metto che stai sottobato uno E lo stavo dicendo Matt Bianchini Vieni che ti faccio detecchi, va allora Dai Tre mesi di Matt Tre mesi di me Ma il Matt, ho detto così Sembra che metto tre mesi di droga E vediamo il tavolo da biliardo Eeeh, da ble Ah, dove sono i tavoli da biliardo? Eh, infatti È da poker Ah, ecco Io sono qua Mio Dio, Marco Che cosa è successo? Fammi me Intanto Karim sta morendo Va bene Vabbè Vabbè Amici, mi sono dovuto mutare Se non lo faccio sgavare Posso? Facci qua Devo rismutare Loro non mi stanno sentendo Mi sentono Me ne va Solo che non riuscivo a resistere senza ridere Credo di sì No Perché? No Non hai più parlato No, 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 perché? Ma mi va Perché c'è una luce verde fluttuante qua? No, mi va bene Hai visto uno? Cosa si c'era? La vedi? Chi è? Gianluca, torna indietro Quattro perché mi... Non lo so Ah sì, c'è una luce fluttuante Oh, la vedo solo io No, no, c'è, c'è, c'è Ah Quattro a zara piano Venga, faccio un bagno Eh, no, tu non mi rispargo solo perché c'è a zara bagno Che abbiamo sentito? Gioannetti 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 Ma l'ha detto? Quattro a zara piano l'ha detto Ah Ho sentito morire uno Hai detto gatto e è passato di Malissimo Credo che sia anche morto Eh, là Dove è morto il felino? Questo è Marco Aspetta eh Ma non è morto il felino Allora stava mentendo Mamma mia Dove? Eccolo qua No, è Gianluca Morto per un'esplosione anche lui Yezar Eccolo qui Che vuoi? No, questo è Esprit E niente, Yezar, sei tu? Allora, sei detente E allora No, no, Yezar, io non so cosa fare Qua c'è un altro morto gatto Niente Io non so Oroti È Oroti Corvo Oroti è detto della C4 Corvo è afco e quindi siete voi due Quindi, lo ammazzo? No, è Corvo Magari uno è Corvo se No Aspetta, lo ammazzo Aspetta Yezar, sei vivo? Mod, scusi 11 mesi Non sei mille Trafalgari su 11 mesi Cazzo Attenuto Porca troia Chi era l'altro? Hai fatto una roba bellissima Hai fatto una roba bellissima Cari, mi son mutato Se no te lo facevo sgamare Mi son mutato Mi hanno sentito in live Yezar Se no ti facevo sgamare Perché stavo morendo Ma Corvo proprio adesso il fk Ma no, ho capito eh E vincevi se ero vivo Corvo Il fatto che io scoprisse subito Karim In che senso Ah, sì È vero Perché devi fare lo detectiver Eh, sapevo Stai con la tale giustizia Perché palle O ti fa O ti fa I quattro Le tonno del piano E spoggiamo Io ho Io non l'avevo proprio Sì, è vero Sono disposto in quattro eh È stato incredibile E' stato incredibile No, ho fatto anche detto Allora Chi vuole deve mettere Detectives Eh, non l'ho messo Io no, per favore Che devo fare il tradizion Io voglio fare Detectives Io Mi dai vinti euro Qua, sono qua dai Ma ti sposo sparare in testa se vuoi Tocca mi sei morto Yezar, dai un colpetto leggero a Karim Ti ammazzo, Yezar Se lo fai ti sparo in testa, Yezar È la prova del Detectives Io te lo dico eh Sparagli un pochino Io ti sparo in testa Sparagli un pochino Ecco Sparagli, Yezar Sparagli No Io ammazzo Ammazzo il Detectives se lo fai, Yezar Ammazzo il Detectives Adesso Adesso Sparagli, Yezar Che succede, oh No, ma è mancato Ok Ah, perché poi diventa Detectives Quanto, quanto danno Scusa, mi ho rotto Non volevo metterti paura A posto Ok Ma perché deve essere una tragedia ogni volta Non ho capito Ho capito Non ti volevo far sparare È colpa mia È un casino per Detective Posso mettere la C4 in doccia Senza che voi guardiate Per favore Puoi fare Detective Ti sparo in testa E poi vediamo Non puoi più Ehi Spirit Sei il sospetto numero uno Ho messo una C4 qui Oroti È piccolissima però È la nuova versione Non la vedrai anche a me È la C1 Si È molto piccola Aia Hai capito Ehi un carino Oroti Eh si perché è di un'altra Te la spiego se vuoi L'1 è minore del 4 Che ridere Ma allora È caduto un quadro È Aerojet Un piccione Un piccione Dov'è? Ma non lo portare qui, maiale Hai sentito? È morto? Ha di Oroati Ha di Oroati Ha di Oroati Il sangue incredibile Scusa io metto l'uccello Per farti Quasi, quasi esplodo Voglio giocare come si fa qua? Allora gioco io Esprit Ti faccio vedere Ho fatto volare le spade Ho vinto Guarda, si fa così Mark C'è del sangue qua sotto Come si fa? Fammi vedere Ma anche qua sopra? Ma quanto sangue ha perso? Non lo stai muovendo Si sotto non dovrebbe essere rotto Guarda eh È un'aurora boreale Ho vinto gatto Sì ma stai tranquilla Ma non succede niente Se fai così Orotti perché sei urto? Ehi Per favore Luke Fuora di ball Avanti Marco Non sta morendo nessuno Marco Allora Orotti L'ha fatto attivare il coso Quindi il ros dovrebbe essere morto Allora Allora Ma Karim è morto no? No no Sei solo molto silenzioso C'erano ci 4 qui Luke è in una stanza di Da letto lì Solita quella famosa Quindi che è questo qua La disinnesco Eh no aspetta Marta Disinnescata Ok Provisissimo Distrutta Di far morire 10 persone Mi è esploso un'altra Infame Luke Stavo guardando Il menù Gatto era Antonio E' spirito non è Era Luke era che Questo qua perché stava guardando così I not Stavo guardando Eeeeeee Guarda I not E' quello coglione Era Iron Man Era un altro E' un po' trovato il board Mori mai forro Mi butto Infame Luca però Stava cercurando Anche il Luke però l'ha fatto Eheheh Stardi Eheheheh 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 Eheheh Manu bastardo Guardate quel uewe Guardalo Scusi per me Uccidetelo subito Uccidetelo Anche se Se sono io detective Uccidete Manu Va bene Va bene Anche io se sono detective Uccidete Manu Mannaggia Io spero Puoi sempre diventare detective Posso farlo io? No Primo che venga Eeeeeee Io io Eeeeeee Non vi dico dove so Eccomi Non sono Mi spiacciono Non ho tutto potere Anch'io dai Ostia Ostia Qua Ostia Ciao gatto Ma scemo Non lo fare per davvero E poi magari shot il traditore Come al solito Madonna Stanno sparando Ma non si rompono mai Ah ecco Sparare tantissimo E che gatto Marco ha ucciso delle sede Otti perchè è per la vita E niente E ha messo anche una c4 Però non l'ho attivata E' noto E' noto E' noto E' un cadavere C'era bisogno di Forse dei pezzi di merda C'era bisogno di Di infilare le dita in sozze C'era bisogno di Toccare con le dita sporche Ha toccato Ha toccato il bognone Ha toccato Io lo sapevo C'era bisogno con quelle manacce Cosa fai? Accarezzi i tuoi genitori Con quelle manacce Ha toccato Io lo sapevo Si Allora Che tragedia A posto Che chi ha toccato? Tu hai toccato Ti giuro Era la c4 remota Era quella remota E' una bastardi Ah ecco E' ho toccato Non ho fatto niente Ci ha ucciso tutti Ci ha ucciso Guarda te Voto Ma c'è uno c4 Una mappa grande No La metti sul corpo Ma che cazzo vuoi? Mappa grande Beh non puoi mettere quella sul corpo E' lì di bombo E' quella sul bombo? E' quella sul bombo? E' quella sul bombo? E' quella sul bombo? Si c'è anche il corpo esplosivo Dai ma lasciatemi ne passare una Dai sono famoso E' ho capito Ma la usa Ha ragione Che paga quella su bombo E' nero E' nero E' nero Comunque per chi volesse vedere fallire la microsoft Dopo seguono la lave di gatto E' eccessivo E' eccessivo Che guardiamo la conferenza Ma tutti insieme la guardiamo Posso esserci anch'io in questa live No 20 euro Si però fai meno il poveraccio dai che ha 30 euro Ma che ti da lui eh Diventa esclusivo E' no Fai meno il poveraccio Sono 150 euro E ti do un bicchiere d'acqua Sei in lista? Si esatto Ti do il tavolo Sono 2000 euro Te l'hai la preve E' il free drink Devi andare Te l'hai la preve E credo Non lo so Non lo so Non ero tipo La prevenità compri il biglietto in anticipo Prima Ok Ma c'è qualche guadagno? In che senso? E bagarini C'è qualche guadagno Per il Prendi una percentuale Prendi una percentuale per la tua lista Per io che devo comprare Io che devo comprare Tu che compri La compri Paghi bene O magari sei sicuro di entrare No entri subito più che altro No patinieri Non hai la figa Non hai la fila per il biglietto Un po' di fila qua Hai morto Ho capito Cos'è successo? Era il traditore Guarda com'è morto plastico Guardalo Da un'altra cosa ho iniziato a sparargli a caso Ah vedi Io c'avevo un compagno di classe che fa il PR Da me tutti lo facevano Pierino E' il privaccio di Pierino Qui nella tua classe si odiavano per forza Perchè c'è la guerra come No per locali diversi Ah ok Eh beh organizzati Ogni tanto Credo fosse come il volantinaggio Un lavoro extra che facevano Eh no ho capito però Se siamo per lo stesso locale Siamo anche competitivi Beh certo Beh ovvio Ma non è che magari funziona Con quei biglietti falsi Allora io credo che Marco non si Che poi in realtà c'era più gente Di fatto che poteva contenere Allora allora Ehi Ah no era una pistola Non dire che ha sparato Chi cazzo ha sparato? Chi cazzo ha sparato? C'è un cattino? Chi? Tu C'è un cattino Ma che vuole tu? Ma ho visto uno E' stato il traditore Eh ti sparavo Tra l'altro Gatto ha appena detto Gatto non è di certo Ve la dai a me Ho detto Marco Comunque non Gatto Che sono io Ah scusa Che ho bisogno di te Marco Chi? E' morto lieta Chiamatevi E non mi caccate sulla testa Mi piacerebbe scendere Mi ho paura Ma come si scende qua? No! Karim! Ok Mi ero incastrato per un attimo Fammi salire che devo guardare tutto dall'alto Ah ok Quindi risparmi 3-5 euro del biglietto ed entri subito Ho capito Interessante Non mi interessa più di tanto Memme Non ti interessa E gli occhi I tuoi occhi dai Quindi in realtà E' appena morto qualcuna invece E' appena morto qualcuna Non la conosce Tu paghi di più che compri la premendita Ho capito male Come paghi di più? Eh erano scritto per un cecchino silenziato E il biglietto No non ho capito No poi si paghi di più per la premendita E paghi di più per entrare sicuro? Senza farti una cosa Ah paghi di più Allora è proprio come l'acquilligia Non è uno sconto No perchè non è il bagarino E' una roba vera E' per entrare sicuro E' come pagare E' come pagare 15 euro per il salto E' morto Marco E' morto Marco Esatto Con il cecchino silenziato Si Karim 15 euro magari vent'anni fa Vedessi adesso quanto costa Un cinquantello dovrebbe costare Si Costa una marea Se faccio un 360 no scope E mi prendi al volo E' morto? Qualcuno sentito E' morto col culo col 360 no scope Che voglia di spararti che ci avevo in volo Merda Come le quaglie E' morto Esprit Meglio così sta zitto Da dietro Da qua chiù Qua E allora E' uno di noi E' uno di noi Per forza E' tutti E qua siamo in 18 E non abbiamo detto Se uno all'interno del gioco E' uno del server Fatale che si Nessuno lascia questo server Farano Bene E' erai not E' erai not me 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 Ma adesso i colpi volano Come Pip ti male Manu ti ammazzo? E' no gatto dai Aiuto Ma di lui Mi dicevo No gatto dai Chi ha ucciso e not Manu? Io Ti assicuri di questa cosa? No Si l'ho visto Luca confermi l'uccisione di Manu? No No Manu è vivo Ha ucciso i notti Era tradizionale Si l'uccisione è fatta da Manu? Si Finito di parlare al contrario gatto Non ti vedo più però Paghi di meno Dei 3-5 euro di più ti do E poi dopo parlo giusto Ma se mi dai 5 euro ti dico che è Manu Infatti Yoda era un PR Era sardo anche io Attenzione Lo sono immaginato quella coppola Che non è sardo quella coppola Siciliano con la coppola Siciliano con la coppola Ma anche i sardi mettono la coppola no? Adesso non la mette più nessuno Fantozzi ce l'aveva la coppola per dire Se ti sta bene Fantozzi era calabrese no? Si si Era di Vibo Valencia Io ho sentito sparare ma non ho sentito E io non trovo più la scala No credo che tu abbia sentito la scala da cui scendevo Ah Non so se C'è di cui fidarsi Si ma sto cosa mi fa paura Perché sembra che ci sia Ma torna la luce Puoi saltarla e spostarla Eh ma c'ho paura Perché tolgo l'arma E poi Karim mi spara Va bene Ehi E quindi Karim? No sono stato colpito anch'io E qua Gianluca Gianluca tu sei stato colpito dal flashbang? No E mi è passato davanti Mh Eh si E come? Qua c'è un fucile Come è fatto eh? Ammazzati il terrone no? Ma allora Ma sei tu quindi Parate a mano Sta curando? Io no No Ok fidami Ma è sicura Eh ma qui da sei O Luke o Karim allora O Karim o Aerojet Allora Mi prendo Karim Perché? Perché non Luke? Ok Karim Perché Luke è morto Quando è morto? Eh boh Quando l'ha trovato Ura Io sono cagato Ha detto ma com'è possibile Ho visto un marker Come è possibile Io spero inizia e non avevo capito Perché stavo ridendo Perché Era un po' buio era Era un po' buio Era un po' buio No Mh Che dolore Ero un po' buio, mi ha sparato da capire. Cos'ho fatto? Cosa fai? Ho sbagliato tasto. Ti arrende. Hai capito, Gianluca? Ehi! Che casino! Dov'è Gianluca? Gianluca? Oh, c'è... Merda! Vabbè, è vero che era carino. Era... Qua dietro. Ha ucciso Manu con il cecchino. Solo che siccome non c'era la gravità è rimasto in piedi il cadavere. Lui ha sparato dopo il cadavere. Ma questa spada è perché l'ho visto in piedi. L'ha guardato un attimo, va dopo qua. Ehi, insomma... Ehi! Prova di coraggio, Karim. Dai! Prova di formaggio. Ma non hai la spada! Ma mi stai menando col manico! Con la spada? Aspetta. Mi ha fatto il suono con la bocca, eh? Che scoligione! Dai, dai! Ma devi uscire! Gio Lazio! Gio Lazio! Gio Lazio! Mi fido abba... Ehi! Ma ti gioca! Che arrivo ha menato Rotti, eh? Che arrivo ha menato Rotti, eh? Che arrivo ha menato Rotti un bel po'! È un bel po'! Ehi! 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 È morto! È morto! È morto la Manu! Di qua a Manu! Di qua a Manu! Un bel po'! fammi capire pure il gioco dove bisogna investigare non fai capire la punti comprata che lui la flashback usata due volte è preso un mp butta la terra e poi comprare un isolizer non sono io mano aspetta e quanto ti stai incastrando non posso comunque non ho punti quindi si gatto in teorie lui esposa c4 è veramente gatto e lui allora uno era marco l'altro e l'altro è gatto per forza e comunque marco ero accanto a gatti è morto gatto rispondi ma io lo vedevo sono stati indietro e ma io ero accanto atteso non neri poco accanto eri un po più avanti no però nel vincolo io ama questa è la mappa con il labirinto di cocomeri aspetta mano di qua di quello che si dice marco fai vedere il livello e niente l'abbinito dei cocomeri l'abbinito dei cocomeri me l'hanno dimenticato che c'era da l'ho trovato l'ho trovato l'ho fatto vedere l'ho fatto vedere e non ci ho preso non hai fatto niente non hai fatto non ci ho preso il yezar era un birillo tra l'altro perché voi volate delle munizioni giù eri un birillo da me ero vivo ancora io e no lo so ti vedevo a giuro è live guardate c'era il yezar era un birillo forse avete visto il nome su tutto da sopra guarda lì no lo trovo eh ma io lo vedo qua eh ma è proprio l'ha esprit l'avevo ucciso col cecchino che non mi aspettavo Karim dal lato che è che io non mi puoi toccare io sono un po' spaventato vado 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 il coglione perché ti pure hai visto eh si voglio fare una magia voglio cadere dentro la finestra chiudo riapro questo è studio ce l'ho fatta son bravissimo che mago bravo ehi chi sei dove sei ecco te adesso guarda un'altra finestra stavo schivata sono qua dentro non aveva la fisica all'altra finestra non è scura si già un filtraurotica è caduto ma le ruote a terra che sono stavo provando l'armo tranquillo ebbe 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 eeeh eeeh dimmi dove sei ho sentito Gianluca Gianluca perché sei entrato lì? è un prequel cosa? come è un prequel? aspetta aspetta marco oggetti non posso esprit aspetta ripeto il diretto vieni qua aspetta 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 esprit stavo pedinando una pedina importante che faccio detective qualcun altro che fa detective qualcun altro è esplosa qualcosa cosa? sono nella casa muglie ahhh porca troia eeeh 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 e non so perché manu camperava sul tetto e lui non è vero erano no sei tu che campionare ho fatto scendere ho fatto scendere io non ho sentito niente ahhh to loro due ahhh to loro due e aspetta hai arrivato qualche gioco particolare in questi due giorni cioè da ieri perché ieri stavo bene ma di che mi apposto cioè da di verde apposto adesso sei basso com'è possibile sono anche stato marco sei te che fai coglione con i letti cosa? che sei sta frase? nella finestra dove sei guarda lì eeeh eeeh paura manu però ho perso vado io mauro vai mauro vado io ma è ugo? si scusate ciao ugo andiamo davanti io il mio ancora non è iniziato inizierà 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 dal mio fa un bambino che ci lamenta ma uh ma qui c'è un mo- ah no come cazzo che palla ti spavento luke quindi? ma è morto qualcuno poi ho sentito io io l'ho sentito come si chiama? karim sei morto? no 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 ci sono ci sono io ho dei forti sospetti eh adesso morto carim sei morto? no sono vivo ok ma che cazzo di zanzare di merda guarda io ho dei forti sospetti ho entrato nel palazzo e è andato oh non lo dico ho entrato nel palazzo dimmi dimmi sono detective eh no mi fido non mi fido poi mi ucciderà mi ucciderà scrivimelo privato scrivimelo privato no 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 arrivo sparano tantino uno è morto quentin spaventa dimmi chi esce già luke subito eh appena vedo il morto io lo so chi è mi sa che uno è qui sopra eh io lo so chi è qui sopra o è qua dietro c'è spaventa era liether però ti hai visto liether hai ucciso liether hai ucciso liether eh l'altro misteri e aerojet comunque eh scusami eeeh non è vero e luke era il luke no avevo fatto male i calcoli ha ucciso gatto mi prendono sempre da dietro però ha ucciso gatto ed è qua dentro ti piace di sicuro sia lì dentro ma qui dentro o dove? in questo palazzone qua Gianluca vieni dammi una mano dai io pure questo palazzone moro non ti vedo l'uke io credevo fosse ai notte fino a prima che vedessi ma il coda hai detto tutti i no hai detto i fatti 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 non è possibile adesso dalle fogne vi casticherò uno per uno tranquillo però no no tranquillo lo faccio agitare vi casticherò proprio come sempre fatto gatto sei afgh? gatto? sei afghano gatto? sei afgh anarchia detective in tre due tattara tattara esprit sei tu uno dei castigli non riesco non riesco oh ma cari musa dittici quattro esprit c'è quattro qui dove? sul furgone lì nella zona limitrofa come faccio a sottare di te? non funzionava cosa? non andare lì non andare lì aspetta andate via andate via ma che bella idea di questo andate via andate via tutti più via di così ehi se arriva qui sono contento di morirci ok gli sei da scatto come mi puzza però cosa? il cane potresti sapere tu potevo andarmene via e lasciarvi esplodere scusa eh si è buggato il mondo no no ma così ma così ti sei fatto fidare cosa? lezzar vieni qui che ti faccio detective ma che potevo raccoglierla eventualmente sono qua vero? tu dove sei? davanti al furgone che belle armi ah devo tornarlo arrivo dal corridoio anzi allora uno sicuro è Manu allora ti posso spiegare i not eh cosa hai combinato? fammi uscire e questo ci appazzo tutti ma qui tavoli ti stavo bloccando ehi respet che fa bunny hop ehi bravo che non mi hai sparato ti sei fidato della mia parola ma giochiamo ad h1 z1 a sto voto dai fatta ciao luke extraditore un'altra c4 nel palazzo che palazzo? che palazzo? che palazzo? quello scuro non che ha cerchinato grazie grazie Manu quella al buio ce ne sono uno e uno e uno e uno e uno si rompo la finestra non sei rotta? mi hanno cerchinato? forse ma tu sei cerchinato dei segnali di fumo che non sono volete giocare a chi vuole essere traditore? dai aiuto 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 e sono coiuto ma lo è andato che culo che ho rischiato di morirci male ma no addio luke scompaio perchè luke? ho male ho scompaio marco ehi vieni con me dove sei? al centro della mappa eccomi no te ti sparo in faccia eccomi tu che mi sei morto ti puoi richiudere questo vabbè mettiti le cuffie da chi vuole essere traditore edificio vabbè non sono io poi magari non non mi credi prego si metta al centro della stanza allora questa cosa non si potrebbe fare ma noi lo facciamo perchè siamo in level e lo facciamo vedere vabbè ah hanno sparato e io non ero come hai potuto vedere ragazzi uno era Karim uno è Karim ho ucciso ho ucciso ho ucciso potevi almeno farci fare la scenetta cazzo pussi morto qualcun altro mi sa che l'altro è not perchè hai attivato lo stesso però tra l'altro io ti ho sparato la pompa e non ti ho tolto niente non mi è arrivato il colpo è incredibile è incredibile oh la madonna perchè ti ho sparato e lo petto non ti avrei shottato ma comunque il male ti avrei dovuto fare io l'ho detto prima eh l'ho detto già Luca ha messo la c4 l'ho detto prima l'ho detto l'ho detto prima l'ho detto prima l'ho detto prima l'ho detto la ciclipa bisogna arrivare a questo punto con Esprit per l'ho serve una c4 di tranquillata l'ho detto mi piace che Marco quando si incazza si trasformi in una 42N che va a fare la spesa non so perchè eh si come si è vero obiettivamente però di quelle lì fighine che si vestono tutte di rosa e girano col chihuahua dentro la borsina Paris Hilton esatto guarda gatto che succede che paura ehi oh ma non lo fai nelle maghe acchepammi al volo fammi volare fammi sognare Gianluca eh vabbè 360 no scope ho sentito delle tiglie ho sentito delle tiglie ho preso tutta la vita ho perso aspetta Karimmo dove sei nessuno è buono a prendermi al volo hai saltato male no non mi curare non mi curare che mi fa dei te Karim ah e niente ti tolgo ancora un po' di vita ma Gianluca si fanno queste cose prostituta ma allora donna di malattare tanto ti è uscito il sangue ma mi s'hanno tolto vita no eh 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 ho sentito un uomo molto sinistro ah voglio fare il lavoro fatemelo traditore mi facci fare l'ha attivato eh è Gianluca è Gianluca è Gianluca è Gianluca è Gianluca oh allora no ho visto il pipone che usciva fuori qua eh ma è stato ah scusami Rodi Rodi perdonami non ho capito niente e niente lo devo fare anch'io ormai andata com'è che funziona sta cosa voglio provare anch'io quindi com'è your fire e devi volare perciò eee doppio Perry ti ho preso il volo quasi eh ti prendo il volo e che male oddio vabbè lo ammazzo ormai è andato lo ammazzo no 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 posso curarlo cazzo lo ammazzo gatto ti uccido gatto ti uccido eh perchè è sparato? perchè volevo mettere Marco quello è scemo quello è scemo dai butto di sotto aaaaaaah aspetta gatto un attimo c'era bisogno di uccidere tutti questi quei affari dell'ufficio hai voluto uno qua non c'ha bene io di ufficio me ne intendo come è un detective? perchè ce l'hai? no chiamo un detective no come un detective ho detto chiamo ho detto come chi è che si sta curando qui dentro? io perchè mi ha fatto male mi ha fatto male dentro e mi ha fatto male c'è uno è Gianluca quindi ma cosa? era l'ultimo che ha visto Orotti era Gianluca ma Orotti si è lanciato ma è morto dentro ma non è morto dentro ma con che sincronia ci siamo fermati non è morto dentro non parla perchè io sono Marco eh si anch'io sono Marco Liezar hai capito? io sono Marco abbiamo fatto la stessa scenetta però è stata involontaria aaaaah ma si fa queste robe che è successo? alla caritaaaaaaaaaa sparo con l'USP alla carita no non ti ho colpito non ti ho colpito adesso si però non sono traditori lo giuro perchè Liezar uccide sempre più innocenti che traditori eh Liezar uccide sempre più innocenti che traditori che paura e poi arrivo alla verità eh grazie cazzo eh giochiamo a COD allora Gatto che stai facendo? eeeh cosa fai ti ammazzo? nooo gatto cos'hai fatto? nooo chi è? nooo e Sprint cosa ha fatto gatto? e non lo so nooo Luke cosa ha fatto gatto? nessuno ha preso il visualizer nooo eeeh e ho preso la flashback e mai fatti i morti qua ma perchè sono morto dietro questo burro? come lo raggiungo io scusami e ve lo sto d'altra nooo e scusa è stato gatto ammazzati gatto no non ho acceso nessuno io lo giuro qualcuno è morto eh no l'hanno ammazzato l'avete ammazzato? ma chi è? gatto dici? e ma no dai l'hanno ammazzato per davvero eeeh Sprint ammazzate eeeh Sprint ammazz... amici eita ahhh 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 che partita da qualcuno ahhh ahhh vediamo tutta colpa di Gliazar comunque ahhh ma che male dal cucine ahhh 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 nooo interessante secondo me quella blu parte la partita è tutto blu Mi sta sudando il petto in una maniera villosa Questa vedi? Ah da quant'è che non la facevamo? Ha un nome un po' particolare quindi magari qualcuno va votare È la solita torre però la variant È il mio amico speciale E io tobi È mezzo turco però Come è simpatico E corre nei frati Ed il suo nome carino Ma bella questa Sento un gabbiano che mi dà un fastidio Piri 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 È rimusa fidati di me Sono un Latin love Latin love Un Latin love Io do le donne Ma senza Fidati di me Sono un altro Signore Mangio le gone Credo che sia esperto Credo proprio che sia Fatti capo i tuoi Ah proprio cosi? Fatti capo i tuaglia! Aglio guarda, 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 è tutti quattro! Colpo incredibile! E ha clipato di nuovo E arriva a identificarlo Se c'è una C4, una C4 Nel momento peggiore Non ho fatto Ehi E sei un coglione però Non l'ho vista Esprit Non l'ho vista Non l'ho vista, stavo acquistando Non l'ho vista Siamo morti con due esplosivi diverse, signor Karim Perché ho visto lui volare Ma sei volato via Era fortissimo Stavo acquistando Esprit e non l'ho guardato Ma prima no Ah tu sei morto come un pirla comunque Fatelo dire Eh capito, botò schivarla la pallina Eh, botò schivarla Efficente Adesso rompo tutta questa casetta Affinché non uccisi Sono detective, zitti tutti Scusami cari musa Coglione tu sei una merda Tu sei una merda Adesso sai cosa facciamo? Diventi detective e poi mi tiri la tua palla detective a me e mi curo Ah basta curarti con la cura Chi m'ha colpito dietro? Che cazzo ha colpito? Mi ammazzo la famiglia Adesso compra la detective ball e me la tiri in faccia Adene Ma che spreco Ma curalo e basta Ma non posso curarti E beh ormai l'ho preso Che paura Ma c'è un morto finto C'è un morto finto C'è un morto finto Eh un cadavere che però Non è vero Non è vero di noi Ah io mi sono bruciato Cari mi ha stato curato Si si mi ha curato grazie C'è un ascensore in movimento Eh no perché credevo fossimo ancora in preperi Eh grazie Culiveri 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 Culineri Saliamo sul cottage Karim Vieni No c'è la c4 Dove basta sta stanza con le c4 Ma che cazzo E basta metterti davanti E basta che non ti ci fanno E non esce E che ti ha mandato su me lo piri Allora Cura mi Ma che cura mi ho finito Vieni via via tutti Vieni via tutti Vieni via tutti Vieni via via Vieni via via Vieni via via Eravamo rinno Marco Ma tu non le hai vieno Ma basta colpir Ai notte lo stanno uccidendo Ma poverino Ma cazzo Ma non riuscivo a fermare l'accaduto della morte Gatto gatto è lui Gatto Eh sono io si perchè Quell'incidenzato non vi prendevo E mi sparo con quello normale Ho provato a salvarti il volo ai notte C'è Luca cosa hai fatto? Non c'è Luca cosa hai fatto Non lo piri Guarda Ma questa scusa E sta l'ho preso il volo C'è sangue qua eh Non è vero C'è sacco di sangue C'è sacco di sangue C'è sacco di sangue C'è sacco di sangue Gianluca Ma i notte da un chido eh No Gianluca non no no E' già morto E' già morto E' già morto E' già morto E' quell'altra è Mauro Muoreci L'ho ucciso Sto per ruttare Non guardare nessuno Gianluca Non guardare nessuno Va bene Un'altra volta Un'altra volta Un'altra volta Ho fatto interno fortunatamente al ultimo Sono Lazaro Noo Ehi che errore Ho fatto un errore Tutti via dalla torre Via dalla torre Via dalla torre Che errore che ho fatto Ah Ehi C'hai cacciato a shock L'ho facciato io Prima di morire Stronzo Anch'io l'ho tirata una Che azione Comunque ho un segno qui In un modo bellissimo comunque Tra l'altro morendo Mi hai lasciato due mei sedici Avevo tirato un incendiario Una smoke Una shock dentro il faro Per errore Che paura Sono Lazaro E gli sparano un fucilato in palla Ciao Cree Gli spacco la faccia Per me Non abbiamo fatto da scudo Erano Jack 995 Sacastic Dei Grazie mille a tutti e due Scusate per Grazie Non era voluto Certo Ah sono io Jacketto Sparano già Ho giusto io altruunque Ho giusto io Ho giusto la schione Scusami Marco che hai sparato? Mi hai spostato la palla Scemo Oh bene Mi hai spostato una palla Devo spostare una palla Metto io la destra o quella a sinistra? Ognion Knight, grazie per me Grazie a Ognion Knight Eh io ho sparato eh Manu? Coglione? Aiuto, ho ucciso il Musa Chi è che mi ha sparato? Oti? Manu perchè stai scendendo Oti? Ma volevo uscire dalla finestra Ah ok Quanto dura Quanto dura Quanto dura sto salito Ma infine E' servato Oti Io sono caduto Sono entrambi col cecchino silenziato C'è ancora Mark Eh non ce la faci Guarda Karim O Gatto, uno dei due Karim o Gatto Karim ha visto salire quindi è morto E sono qui con il visualizer Ah ostia ma sono troppo sotto E no non ce l'ho il visualizer Perchè avevo preso la pallina ma l'ha schivata Manu Hai due punti Eh no l'altro l'ho preso per l'arma Due panni è vero Comunque uno mi sa che la prende A parte che l'arma è nel numero 7 Quindi non puoi prendere da prescindere se vai addosso E basta lasciarlo E ormai è andata Vi tiro un incendiaria di sotto scappate Efficiente? Sembra il caso Coglione! E ci hai seguito proprio sopra tu Ovviamente da Esprit dove ho andato L'ho tirata mezz'ora prima L'ha anche detto Si ma non sapevo dove Era nell'angolino era che palle No E se devo venire a sparare Marco adesso Orotti secondo me sei stato tu Ehi ehi Tantarughe Nicchia che buono Dove sei Matteo? Marco? E' morto Marco? Aeroget sei te? No Secondo me Aeroget E' da solo sul farro Marco è caduto? E' quindi cosa sarà mai Esprit? Facciamogli un altro paio di domande dai Che biancheri enti ma forti Già lui Lascia mi stare però Marco Guarda sono caduto C'è lui di sopra E' un detective Ma esso un coglione te Neanche mai C'è colpa sua Ma non ti sta neanche A parte che hai notte e mezz'ora Fraccia che stai Ma tu Esprit non sei in corso nelle mie tartarughe? Salendo Ti erova morta Una sola Ce n'era una morta Che tristezza di storia No Allora forse sbagliata la di schizio Le hai droppate con la culo Le hai droppate Credo no però Non lo so A parte che c'è una comanda in teoria C'è una mina e una tartaruga Non è quella che esplode mille pezzi Allora forse ho preso quella sbagliata Un po' due Esprit non è che Si ma tanto te Esprit non muori Adesso vi faccio vedere il sedere Karim sei tu? Dai Dai Li risparo La schiva Li sparo Hai sperato che clip ho casino ma c'è il clippa veramente un casino dai fallo canimo non urlare ti piace come risposta ho rotto una finestra a mia colpa eh eh chiamate carglass quanto costa carglass ti sei ho visto uno che è sparito cosa? ti dì manuel è saltato in aria come un sedere l'avete visto? è lui appena detto non urlare un secondo fa porca di una puttana merda l'ho più fatta io con pompa eh l'ho ucciso io marco ti ho preso? si sono morto come cazzo ho fatto? ho sparato alla cieca l'importante è imparare a non gridare ma che fatto loro una super disco che è stata muoto eh si dalla sopra ma era dietro oh dio ma era dietro ma sai che neanche io l'avevo visto Chris Spectator ti sto guardando a te proprio cosi adesso proprio cosi dai se aveva tre coi avevo fatto la tripla com'è adesso? ti cita in volo Manu meglio non ci riesci adesso corro io nessuno vuol dire che è meglio prendo paura ma sto che hanno voglia comunque paura e mi sono cagato addosso e neanche io l'avevo visto i notte perché stavo vissando gatto da vicinissimo che male però si perdiscono che inutilità è caduta nel vuoto eh eh sono fermo potevo ucciderti Manu potevo ucciderlo ok allora io mi fido di Marco io mi fido di chi era bisogno i notte Marco potevi aspettarmi cazzo vabbè no scendo no scemo che male che hai fatto male potrei anche farlo non devi finirmi no mi segui troppo i notte mi sto seguendo tantissimo ehi c'è muoio lui va bene Iezar guarda che lo uccide non so dove sei gli ha fatto vedere la c4 gli ha fatto vedere la c4 lo conosco l'ho visto i notte mosciaci la verità ma ti hanno sparato per davvero ma 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 volevo fare esplodere i barili Manu e gli ucc no no ero dietro di te sono passato dietro Manu vabbè no 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 non ti ha preso i notte vabbè spero Manu si mi ha colpito a me ha sparato e quindi niente ma si volevo colpire i barili lì ma comunque c'erano i barili di fianco a gli ucc cretino ma no non moriva infatti non è morto io spererei ahia che male mi son fatto io ho una rotula gliela tolgo a Manu diciamo me le tolte due io non ti ho colpito Manu no io non ho sparato roll on comunque non è possibile che ti lanci dal faro e sei proprio bravo a far fun hai visto aspetta che ne vieni con me ti mostro un segreto però ti sta andando lontano sta andando a cecchinare lo so lo conosco anche mai mi ho scappato lontano io sto andando con un gatto in un luogo buio sto andando con un gatto in un luogo buio sto andando con un gatto dai diezza il suo hassle cosa? niente zitto 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 si ahia allora ehm Manu era senza armi quindi ah un è maestro che volesse cecchino a fare qualcosa va dentro da qualcuno ha fatto qualcosa nooo ho fatto casista ah e non ho fatto nulla io merda oh aerojet 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 era sotto di voi ragazzi identifica eh aspetta superdiscambulator qua aerojet eh mi sta non è noto è noto è morto? è noto è morto aerojet 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 credo sia morto ma non è scappato quanto dovevamo spargli a mano all'inizio perché va per te bevo io io lo cercavo per sparare va a girare vai via vai via vai via ragazzi la tua posizione non è stata compromessa Sono rimasto qui Una volta era automatica questa pistola, perchè è diventata semi-automata? Eh niente, non c'ho voglia di riaprire di nuovo, di rifarmi tutto Eeeh, manco Teren, 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 teren Upa all'inizio è veramente sbagliato Io li prendiamo entrambi, però... Eeeh, fatta, fatta Mica sei cotto Facciamo l'ultima, mi sa Ehi, facciamo l'ultima o l'ultima e due, poi facciamo il navigato Eh, ma se sul territorio era uno spreco Vabbè, questa la facciamo E tanto, hai comunque 5 minuti di tempo Dai gatto, facciamo così Metti me dai, allora Ah no, non ha senso farmi il detective, vado lì Ah, avete finito Guarda sti barili Allora, io ci sono Allora, Manu Mauro Vai, fai tu Piano con i barili che mi ammazzi Due Ho ciò che c'è Marco che ci ammazza Vabbè, faccia mettere il piattello Nuke, vai Aioh Mi sono fatto male da solo Non stai buoni però Non so io come funziona quella roba Eh Ma dai, hai fatto casino, scemo No, guarda che io sono l'esperto qui, eh Guarda Infatti si vede Questo lo raddrizzi Mi fa malissimo per una Questo lo raddrizzi Mi fa malissimo qui Adesso Vai sul tetto di lato Il claustro strebico No, però vedo ancora la luce Ok No, si può entrare Così? Così no Si vuole qualche colpo in più Cimmo Lo fa fe- Devo girare No, aspetta che prendo l'ascensore Ho il culo È morto Dieter La ching chang o jung Gatto Che rimuza L'ho visto che l'avevi tirato Come cazzo Ho provato a tirarti la cassa sulla testa Non ce l'ho fatto Come la cassa sulla testa E ho provato a schiacciarti nell'angolo Non ce l'ho fatto Come cazzo ha fatto a sopravvivere? Ma non ho capito Perché io sono morto Gatto no Che radicchiamo qua a me Ero un po' più indietro Sei morto lì a Zartuco Si, ma io ci sono salito Sono morto Il gatto è un gran canza La faccio io Ciao Ma non lì, non lì C'è un ciug Ma sto mai mi sono fatto E in fiamme addirittura Ma che tragedia Per vedere cosa è rimasto dal catavere Che tragedia Che tragedia Fa vedere il braccio tutto bruciato E' terribile Mi sono fatto malissimo Gatto per rubatua Mi sei venuto vicino Io stavo correndo indietro E' a bordo Stavo scendo dall'affaro Eh aspetta sei stupido Mi dispiace E' vero? Tu che hai un posto di merda Ma fatti fatti tuoi Che non sai come si dice blu Sono rimasto confuso E c'è Yook E chi è rimasto vivo? Ciao Fincio Ciao Sir Più che l'affaro E chi era quello che si è ucciso? Gatto 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 che è Eh 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 Ma che come è bello suo comodo Qua ci penso io a fare le cose Però quanti morti Ah Roti Siamo un po' vediamo un po' E' troppo si Sparano Mi sa che è Oroti Eeeh Mi sa Di là Che baaah Esprit prima di morire ha detto Oroti, Bossi e Cossiga Ha detto questo Vabbè Buonanotte Ci siamo la lina del gatto Ciao amici Guarda perché non mi gatti il coglione E' una mattina Ciao Andate da gatto Ciao Ciao a tutti Esatto Ciao Yes Chiusissimo Boom bici